Buongiorno, pillola della settimana, Franco Scolari, non mi presento più, qualcuno di voi mi ha già visto, ha già capito cosa servono le pillole. Oggi abbiamo una pillola importante perché parliamo di tecnologia, parliamo di digitalizzazione, parliamo di transizione verde, parliamo anche di sostenibilità con un sottostante non irrilevante che sono gli incentivi per i progetti a tutte le cose che ho detto prima. Chi è che le segue? Chi è che ha la borsa al polo tecnologico per queste cose? Ingegner Massimiliano Bertetti, sei tranquillo, rilassato perché i tuoi obiettivi di spendere bene i tuoi soldi e io ti do un assist, ci sono più soldi e competenze che buoni progetti per realizzarli. Sei d'accordo? Sono d'accordo, ottimo l'assist che mi permette di poter definire e inquadrare la business unit. La business unit vive di persone, vive di competenze trasversali, soprattutto focalizzate verso i temi dell'innovazione digitale, della trasformazione digitale e adesso anche verso la transizione ecologica o energetica, che dir si voglia, che poggia le basi sulle due gambe europee, quel green e digital. Torni indietro alla focalizzazione che hai anticipato precedentemente sul abbiamo la borsa, abbiamo dei soldi, abbiamo di un filone regionale, abbiamo un filone europeo e abbiamo un filone che viene ereditato dal DNA del polo tecnologico quando nel 2016 il polo dichiara la competenza territoriale in Criuli Venezia Giulia sul digitale e su questo abbiamo costruito la business unit. Gli incentivi a supporto delle imprese, start-up, PMI e GE sono volte con una legge regionale ad individuare le attività di innovazione tecnologica, soprattutto nel campo delle tecnologie abilitanti, supportano finanziariamente progetti di trasformazione digitale e in maniera più grande l'altra borsa che hai citato è quella di un progetto ADH, di un European Digital Innovation Hub che abbraccia i temi digitale e green con una proposta di servizi alle aziende che vanno da un audit a consulenze di innovazione a costruzione di progetti di trasformazione digitale con una buona percentuale. quindi l'imprenditore può diventare, se me lo permetti, solamente uno scellerato nel caso non dovesse accettare questa tipologia di attività di innovazione. Perché? Perché la BU cerca gli incentivi, scrive i bandi per poter andare a recuperare e proporre gli incentivi agli imprenditori del territorio italiani ed europei con la pratica dell'attività di EDH. Non si offende nessuno perché di scelerati imprenditori non ne conosciamo. Ne conosciamo ogni tanto di prudenti, ne conosciamo ogni tanto di meno informati. È un'informazione che devi darci. Quante ne abbiamo fatti di progetti di questo tipo nella nostra storia o nell'ultimo anno? Nella nostra storia sulla legge regionale abbiamo elaborato più di 150 progetti di trasformazione digitale, abbiamo elaborato più di 300 assessment a partire dal 2016, quindi senza infami e senza lode. Secondo me possiamo confermare di avere un buon patrimonio di conoscenze che vanno dalla riorganizzazione del magazzino al BPR, alla supply chain, a quelle attività dove una tecnologia abilitante può essere inserita per poter creare valore lungo tutta una filiera. I miei business unit manager sono meno marketing di me e non sparano il numero importante. Cosa ci guadagna un imprenditore ad avere gli incentivi? Dignelo! Cosa ci guadagna? Ci guadagna non solo reputazione, fama e visibilità, che ovviamente possono essere, ma ci guadagna risparmio, più che ci guadagna risparmio nel caso specifico fino a un 80% dell'attività di un progetto. Se siete PMI 80%, se siete grandi imprese spendete di più, ma... Fino a un 50-60% a seconda della tipologia del servizio, dell'attività di trasformazione digitale sostenibile. Grazie Max. Nessuno degli uditori è scellerato. Molti degli uditori devono intraprendere un'attività di competitività del loro processo produttivo. Rivolgetevi al Max. Ciao, a presto! A presto!